Andiamo a dare un'ultima occhiata, ancora indiscreta, strano, sta suonando, è una linea bollente quella della nostra signorina Maria Teresa. Senta, vorrei parlare con la signorina 50enne per favore. Sono io. Ah, e lei? Buonasera. Buonasera. Senta, io sono un ragazzo giovane, ho solo 30 anni. Buonasera allora. E su questo buonasera, gentili signore e signori, chiudiamo anche noi, in modo meno perentorio, perché i casi della vita sono tanti e sono, come vedete, semplici, curiosi, bizzarri, alle volte qua e là inquietanti, ma sono sempre degni di essere visti e di essere vissuti. Grazie per aver assistito a questa prima puntata di Portobello. Arrivederci a venerdì. 17 giugno 1983, sono passati 40 anni, è una vicenda che non ha perso un grammo della sua drammaticità, perché lo chiediamo all'avvocato Raffaele della Valle, che ha scritto quando l'Italia perse la faccia. Buongiorno, avvocato. Grazie per averci invitato. No, grazie a lei per aver scritto un libro, per aver difeso un cittadino onesto e perbene. Partiamo dal giorno dell'arresto. Lei arrivò a Roma e trovò quella pletora di fotografi e telecamere e quell'immagine che è passata vergognosamente alla storia. Avvocato. Non mi sente avvocato? Prego, la sento. Ecco, ho visto che è rimasto un attimo così, posso immaginare la commozione e anche la rabbia. Cosa prevale dei due sentimenti rispetto a quell'immagine di Tortora con gli schiavettoni che lui non nascose ma con grande dignità alzò come cenno di protesta, perché tutto inizia con quell'immagine. Avvocato. Tutt'ora io rivivo questa devastante esperienza che abbia da sopportare il 17 giugno del 1983. Ma soprattutto risento anche quasi la voce di Tortora quando mi annuncia questa allucinante vicenda. Raffaele vieni, corri, mi si sta scoppiando il cuore, qui mi stanno arrestando. E questa voce mi ritorna spesso ed è quasi un incubo. Infatti io ho scritto in collaborazione con Francesco Costner che mi ha provocato con le sue domande questo libro non tanto perché voglia distribuire dell'odio, tutt'altro, ma più che altro perché si possa in futuro evitare non tanto l'errore, questo non è un errore giudiziario, ma quanto l'orrore che si è verificato a seguito di questa vicenda. E quindi vuole essere un invito agli inquirenti a rispettare ovviamente la norma, ma soprattutto a rispettare quel grande principio di presunzione di non colpevolezza che la nostra Costituzione ha affermato e che molto spesso è nelle caserme quando indagano e soprattutto il pubblico ministero quando dovrebbe giudicare e vagliare il materiale che la Polizia giudiziaria gli sottopone, dovrebbe valutare alla luce della presunzione di non colpevolezza. Noi purtroppo siamo stati sfortunati, almeno in primo grado, poi in secondo grado abbiamo trovato dei giudici illuminati della Corte d'Appello. Siamo stati sfortunati perché anche lì il Tribunale appariva assolutamente appiantito, condizionato da questa indagine che i media avevano elevato a livello internazionale e che i media illustravano questi pubblici ministeri come persone assolutamente attendibili, affidabili per i quali l'errore non era possibile, tant'è che venivano definiti maradona del diritto. Avvocato, mi scusi se la fermo un attimo. Questo combinato di sposto media, pubblici ministeri è stato esplosivo nella fattispecie perché evidentemente più aumentava il credito verso i pubblici ministeri, più prendeva contezza questa demenziale ipotesi accusatoria. Spero che lei mi senta perché vorrei fare un'altra domanda che è una fortuna averla qui con noi. Allora, il famoso scambio di droga del 5 maggio di cui Melluso ha parlato, Melluso era nel carcere di massima sicurezza di Campobasso e nessuno ha controllato. Vittorio Feltri con il numero dell'agendina lo chiamò e venne insultato da una persona che evidentemente non era Enzo Tortora, sembrano, come dire, siamo all'ABC delle indagini eppure queste cose non vennero controllate, perché? Ma quello è nulla, quello lì sono qui squiglie direbbe Totò, ci sono degli argomenti molto più fondanti, c'è l'argomento del famoso biglietto riscontrato a Pucca, un noto camorrista e lì la televisione, la radio, tutti cominciavano a dire che quel biglietto o in quel biglietto c'era il numero di Tortora e il nome di Tortora e per un anno e cinque mesi hanno tambureggiato con questa favola laddove al contrario bastava fare il numero, come disse poi il testimone in udienza, per capire che non era Enzo Tortora e per capire che il numero non era di Enzo Tortora. C'erano delle cose assurde, tant'è che ho sottenuto la tesi del paradosso della Torre di Pisa, se uno ti accusa di aver ucciso qualcuno sotto la Torre di Pisa, per questi magistrati bastava che si dicesse che esiste la Torre di Pisa perché si potesse ritenere un riscontro, perché la follia vera e propria è la strada cultura del sospetto che in quel momento aveva preso corpo e che purtroppo, molto spesso, ancora oggi questa cultura esiste. Quindi per cambiare... Avvocato mi scusi se la interrompo ma ho due ospiti e vorrei ascoltare anche loro. Tra l'altro Antonello Piroso, giornalista che non ha bisogno di presentazioni, si è occupato a lungo del caso e lo fa con uno spettacolo teatrale ancora in scena. Che cos'è questo spettacolo e che cosa ti ha colpito di questa vicenda? Era una vicenda che è durata 48 mesi e poteva essere chiusa non in 48 giorni ma in 48 ore se appunto i magistrati che indagavano e poi i magistrati del primo grado non avessero preso per oro colato quello che dicevano i cosiddetti pentiti. In questo poi c'è una parte di grandissima responsabilità dei nostri colleghi, non solo i economisti giudiziari ma anche qualche direttore di giornale, i quali hanno ingigantito l'agonia mediatica trasformandola in una fogna mediatica perché io ricordo che tra l'altro uno dei giornalisti più spiaggiato sulla posizione della procura di Napoli è stato il testimone di nozze, l'avvocato se lo ricorda, è stato il testimone di nozze di Gianni Melluso, uno dei giornalisti di un settimanale che comprò poi l'esclusiva del matrimonio tanto per dire come eravamo messi... Purtroppo hai fatto bene a usare quel termine macelleria giudiziaria perché, ripeto, non la magistratura perché i giudici di appello e di cassazione hanno fatto quello che non avevano fatto nei giudici istruttori, nei giudici di primo grado. Una banale verifica, Giuseppe Pucca, il cosiddetto proprietario dell'agendina detto o Giappone, quando finalmente fu ascoltato disse Ah, l'agendina non è mia ma è quella di mia moglie Assunta Catone Assunta Catone dice guardate che è Tortona e dice ma nei verbali i carabinieri hanno scritto Tortora Eh, ma si sono sbagliati loro? E come lo sappiamo? Presidente, facite un numero e vedete che vi risponde Ma la cosa più clamorosa è che questa signora ai magistrati inquirenti l'aveva detto tre mesi dopo l'arresto di Tortora che non era Tortora, ma era Tortona I magistrati non le hanno creduto, era più comodo credere ai pentiti Morcellini, professore merito della Sapienza di Roma, docente di sociologia dei processi culturali e televisivi Quello che è successo a Enzo Tortora, inghiotto e risucchia, una sorta di buco nero Quella che è la sua grande dimensione professionale a partire dagli inizi degli anni Sessanta Campanile Sera o la Domenica Sportiva e poi nel 77 Portobello e la rivoluzione degli ascolti Che Italia era e perché quel successo? Beh, intanto diciamo la verità Avremmo potuto pensare che un personaggio di quel livello e anche di quel prestigio personale Perché davvero quell'uomo aveva dei talenti particolari Uno di questi straordinario è la voce, altamente riconoscibile, identificabile Fosse quasi protetto da eventi che invece nella vita succedono a tutti In quel caso invece è emerso questo aspetto clamoroso Che qui arretra un po' rispetto alle osservazioni tutte pertinenti che sono arrivate Perché devo dire che su questo tema è difficile non avere consenso Ma gli indizi noi sappiamo che sono sempre non verificabili immediatamente Ma devono avere un peso specifico di qualche livello rispetto alla vita della persona E a quelli che lo contestano Lì questa operazione non è avvenuta Lì la magistratura si è rivelata un santuario più di ombre che di luci, che di trasparenza E non possiamo neanche dire che ci sia stata un ripristino, un'ammissione di colpe adeguato Mentre la comunicazione qualche piccola riparazione l'ha fatta Ci fu il PM De Gomarmo che volle chiedere scusa alla famiglia ma le scuse venivano respinte Antonello tu sei stato direttore del Tg della Sette e della Sette Ti sei inventato anche tanti format L'importanza di Enzo Tortora nei format televisivi Perché di fatto la tv di oggi è figlia sua Portobello era un format che conteneva una decina di format Domani sposi, chi l'ha visto, i cervelloni Cioè dentro c'era tutto E tu hai ricordato che prima, 1966-67, faceva 10-12 milioni con la Domenica Sportiva Ma vorrei ricordare il tratto umano del professionista Quando conduttore della Domenica Sportiva gli viene detto che è stato investito ed è morto Gigi Meroni Giocatore fantasista del Torino e gli dicono beh diamo la notizia Lui disse io la notizia se i parenti di Meroni non sono stati avvisati non la do E non la diede, cosa che invece oggi con la corsa che c'è allo scoop Se non la dai ti cacciano via Esattamente E qui c'è un altro aspetto straordinario della sua biografia comunicativa Non amava l'ipertensione Tutti gli altri, mi dispiace dirlo, con gradi diversi Credono che la comunicazione sia ipertensione, eccitazione degli animi Ed è un male che non si è ancora archiviato Badate che l'Italia è il paese in cui c'è più necrologia e più attenzione alla cronaca nera Come se il giorno dopo il sole non sovvesse ancora Eh ma se poi ti dicono che il pubblico vuole questo come la metti? Ma non è vero, non è vero Perché noi sappiamo che la suefazione provoca più perdite di pubblico Che il grido immediato che avrebbe potuto fare Antonello Tortola Non è vero, il pubblico vede quello che gli offri Se accende e trova spazzatura si guarda anche la spazzatura di default Ma siccome i tempi del consumo televisivo stanno cambiando Credo che questo sarà un buon incentivo per darci tutti una regolata Allora io ho un minuto solo e chiedo all'avvocato della Valle di rispettarlo Perché poi abbiamo Camper dopo di noi e dobbiamo Siamo al sicuro Enzo Tortora e il suo caso, la sua tragedia umana hanno insegnato qualcosa o no? Ma ha insegnato poco perché se non si cambia la cultura Questa alla fine è la storia dei piccoli uomini Uomini che non hanno potuto, voluto riconoscere il proprio errore Uomini per il quale l'arroganza è il loro DNA Uomini che non hanno conosciuto l'umiltà E queste sono le doti essenziali che deve avere non solo un magistrato ma tutti noi Quando mancano queste doti gli errori sono sempre dietro l'angolo Allora ci dobbiamo salutare avvocato Gli orrori, non gli errori, sono sempre dietro l'angolo Ci dobbiamo salutare avvocato, speriamo con un gesto simbolico che almeno l'aula bunker di Poggio Reale Venga intitolata a Enzo Tortora per non dimenticare Grazie a Raffaele della Valle, grazie a Mario Morciolini E grazie, è stato un vero piacere Grazie a Coppola che è stato con me difensore Grazie, grazie a Antonello Piroso Ci ritroviamo domani qui per un'altra puntata di Una Mattina Estata Camper Grazie